Siamo in compagnia della professoressa Zambrano, neopresidente della Fondazione Universitaria Unisa. Quali sono gli obiettivi che si prefissa la Fondazione per un futuro anche prossimo? Allora, prossimo è il prossimo e domani, diciamo nel medio-lungo termine, perché affinché i progetti poi siano produttivi necessitano inevitabilmente di un po' di tempo perché ovviamente si possano realizzare. Le linee di sviluppo della Fondazione sono, ancora chiaramente ce ne saranno altre, però per il momento quello che mi sono immaginata, considerando che sono entrata soltanto lunedì, era un primo filone il rapporto con gli studenti e quindi con uno dei profili che mi sembra di capire effettivamente, come dire, problematico, il problema della ristorazione. L'aspetto della ristorazione, perché i ragazzi ovviamente passano gran parte della loro giornata qui in Ateneo, e hanno interesse, diciamo, a punti di ristoro che funzionino bene e funzionino al meglio sostanzialmente. Quindi possano acquistare prodotti di qualità, insomma, che incontrino i loro gusti. Con tutti, ovviamente, i limiti e le necessità di tenere conto dei problemi perché questo profilo venga realizzato. Comunque, la customer satisfaction, quindi diciamo la soddisfazione dello studente, è un primo profilo. Un secondo profilo a cui sono molto sensibile, il profilo della tutela dell'ambiente, e penso che una città, perché di fatto il campus, questo e l'altro, sono delle piccole città, debba prestare veramente tanta attenzione all'ambiente. E qui è fondamentale il momento di interazione ancora una volta con lo studente, che deve essere sensibilizzato sul problema della differenziazione corretta, diciamo, quindi carta, plastica e tutto quello che ne consegue, ed educato in questo senso, è realmente educato in questo senso. E poi c'è tutto l'altro aspetto, l'altro profilo. Se ne è parlato un po' stamattina, in occasione della presentazione degli spin-off sul Genoma e sulla Smart Doctor Energy, l'altro aspetto è che la fondazione deve recuperare un ruolo centrale e di promozione per tutte quante le attività di ricerca che si effettuano all'interno dell'università. Quindi fondazione come momento e come motore di promozione di queste attività che sono importanti, affinché poi tutta sta vivacità che c'è all'interno dell'università possa trovare il momento di, insomma, di, possa essere riversata in qualche modo all'esterno, possa essere resa nota alla, insomma, a chi l'informazione la raccoglie. E forse questo momento, questo canale, diciamo, in qualche modo, in questo, non so, fino ad ora non è stato ben sviluppato, insomma, è venuto meno, è mancato, è mancato. Poi, in mente dei, ci sono altre idee, insomma, c'è la possibilità, vediamo un po' in che misura, se il territorio, anche dal punto di vista economico, risponde, cercare di dragare fondi e la fondazione di venire promotore di una borsa di studio di formazione per uno o più studenti che poi dovrebbero trovare collocazione sul territorio, insomma, queste sono le idee. Alcune, sono convinte, si realizzeranno senza grossi problemi, altre necessiteranno inevitabilmente di tempi più lunghi, ma sulla realizzabilità in toto, direi, che non ci sono perplessità.